E' stata trasferita presso l'ospedale del mare di Napoli la 17enne di origini indiane e residente a buon abitacolo rimasta gravemente ferita dopo essersi lanciata dal quarto piano dell'ospedale di Vallo della Lucania dove era ricoverata. L'intervento chirurgico eseguito al San Luca è riuscito perfettamente ma le condizioni della giovane restano delicate. Il trasferimento all'ospedale partenopeo si è reso necessario per la presenza qui di una maggiore specializzazione nella branca maxillo facciale. La ragazza infatti nella rovinosa caduta da cui miracolosamente si è salvata ha riportato diverse fratture agli arti inferiori al bacino e alla mandibola. Sul fronte delle indagini appare chiaro che non si è consumato alcun reato. La giovane che era ricoverata nel reparto di medicina generale per delle emicranie intorno alla mezzanotte si è portata sul balcone della sua stanza d'ospedale e si è lanciata di sotto. Un biglietto ai genitori lasciato sul letto per spiegare il proprio gesto avvalora la tesi del tentato suicidio. La diciassettenne vive a Buonabitacolo con la sua famiglia di origine indiana ricompostasi qui in Italia dopo che il capofamiglia aveva trovato una sistemazione. Il papà infatti lavora come operaio a Montesano sulla Marcellana. Un nucleo familiare ancora chiuso non del tutto integrato anche sul fronte della lingua ma che vive tranquillamente nella cittadina. La ragazza però pare avesse avuto già diversi ricoveri negli ultimi tempi. Il sindaco di Buonabitacolo Giancarlo Guercio in queste ore sta lavorando per cercare di dare sostegno e assistenza alla famiglia. La triste vicenda ha colpito duramente l'intero Cilento e Vallo di Diano in apprezzione per le sorti della diciassettenne.